Tutto pronto? Partiti? Leggero controtempo sopra Ledi, primi metri di gara con all'interno Armenian Force all'esterno a Toriansson, Windy, Padania, Felix, Trionfatina, Sesebi, Santo di Padova e a chiudere c'è il numero 6 di sopra Ledi. All'attacco della prima piegata troviamo in vantaggio la top weight della competizione, il numero 1 di Armenian Force, in seconda posizione a Toriansson, Giubba bianca con il cap nero, a largo galoppa il favorito di Santo di Padova in Giubba verde, i primi metri con il cap rosso, troviamo Padania, Felix, a contatto c'è anche Trionfatina, quindi Sesebi a chiudere, troviamo sopra Ledi. Quando si va a completare la seconda curva in vantaggio sempre Armenian Force, in seconda posizione c'è il richiesto di Ettore Hansson, per via interne galoppa Padania Felix con a largo Santo di Padova, Trionfatina che è ancora a contatto, quindi sopra Ledi e Sesebi. All'attacco dell'ultima curva Armenian Force ora apre i rubinetti e cerca di scappare nei confronti di Ettore Hansson, c'è Padania Felix in terza posizione con a largo il battutissimo di Santo di Padova, quando sull'ultima curva Armenian Force ha messo due nette di vantaggio nei confronti di Padania Felix con a largo Ettore Hansson e Trionfatina. Si arrocca lungo la corda il numero uno di Armenian Force, all'esterno c'è lo scatto di Trionfatina che viene a largo di tutti per attaccare Armenian Force, Trionfatina che scatta, Trionfatina che forse batte a fil di palo Armenian Force per la terza e il numero tre di Ettore Hansson.